Ragazzi ma basta? Ma è possibile? Cioè ma è mai possibile? Ma io cosa vi dicevo? Ma io lo sapevo che era così Ce n'è sempre una eh? Ma è sempre così? Ma basta non ne posso più Vabbè che tanto non ci giocavamo il mondiale, ormai la Ferrari Sappiamo tutti che è in lotta per il secondo posto nella classifica costruttori Però ogni tanto mi piacerebbe anche fare una bellissima gara Invece no, perché per qualche motivo noi non riusciamo mai a farne una bella E una volta è la sfortuna, una volta è l'errore dei piloti Per diciamo andare sul podio la vettura in teoria c'è Quindi non ci sono scuse Però è una volta perché c'è il tempo E una volta è la strategia sbagliata Una volta i meccanici ce n'è sempre una Ogni volta è sempre la solita cosa Noi non riusciamo mai a fare benissimo una gara Ci dobbiamo sempre rovinare tutto Cioè ma è impressionante eh? Questa volta non posso neanche dare la colpa a nessuno Perché Leclerc è stato sfortunato E' un peccato perché Leclerc in questa pista andava meglio di Sainz E infatti l'abbiamo visto anche nella sprint race L'abbiamo visto nella qualifica shot out Nella qualifica Ma anche prima, già dalle prove libere E qual è il problema? Che ovviamente chi va meglio deve avere qualche problema Ma ce la dico io Ma neanche iniziare la gara Cioè ancora prima, nel giro di formazione Ma quasi quasi dico anche per fortuna Che se aveva quel problema Magari durante la partenza Quando magari era la prima curva Cioè andava dritto e faceva un macello Però non è possibile ragazzi Siamo proprio sfortunati eh Non ce ne va dritta una Non c'è mai nulla che va bene qua Cioè è impressionante Poi tralasciando questo sfogo iniziale Cioè all'onsomma Ragazzi a me piacerebbe vederlo con la Red Bull Perché secondo me potrebbe dare un filo da torcere anche a Verstappen Perché è ancora fortissimo Anzi Forse adesso a differenza di anni fa Ha anche l'esperienza in più E infatti ha fatto qualcosa di straordinario La difesa Che ha fatto su Perez Che tra l'altro ha la Red Bull Quindi la vettura è sicuramente migliore dell'Aston Martin È qualcosa di straordinario Ma lui sapeva i punti in cui Perez poteva provare a superarlo Ma Cioè all'onso si è difeso come un leone E pensate che cercava di far ricaricare l'Erst Che così anche se sul rettilineo Perez aveva il DRS Non riusciva a superarlo Perché lui aveva ricaricato al meglio l'Erst No? Quindi c'è fenomeno puro Poi quando si è fatto superare Lui ha detto no Cioè lui ci ha riprovato fino alla fine E infatti all'ultimo giro Ha superato Perez Riprendendosi la posizione Ovvero il podio Il terzo posto Cioè questo è un podio Sì non è che ha vinto una gara Ma sa di una vittoria Perché ha fatto qualcosa di fenomenale Poi vedete è così che a noi piace vedere la Formula 1 Che tra l'altro posso dire che questo qua In tanto si sta avvicinando la fine del mondiale È mai tutto deciso Il campionato costruttore E anche il mondiale Però ci stiamo divertendo molto Cioè tutti vogliono provare a vincere Perché giustamente una vittoria in più Un podio in più È sempre storico da mettere in bacheca Soprattutto per piloti che magari non sempre si ritrovano là Però a nonso c'è incredibile E sono contento veramente Perché l'Aston Martin non stava facendo benissimo Cioè aveva iniziato bene Dopo un po' così e così Dopo c'è stato un crollo E finalmente sono riusciti a capire cosa sbagliavano Probabilmente era al fondo Non so bene adesso A livello tecnico L'ha fatto staccando Ho risolto molti problemi Adesso non voglio dire Che già il prossimo weekend di Formula 1 Vedremo di nuovo l'Aston Martin così avanti Bisogna vedere I valori in campo cambiano in base al circuito Però possiamo dire che Sono contento che appunto l'Aston Martin si sia ripresa Che stia ritornando su perché se lo merita Poi se lo merita soprattutto Alonso Che ha fatto una carriera straordinaria Lo sta continuando a fare Lui da filo torce Lui ha proprio talento Da filo torce da chiunque La Mercedes Un po' così e così Perché iniziava bene Ma dopo aveva un degrado molto rapido E quindi perdeva un sacco di tempo La Ferrari Diciamo si a tratti eravamo anche Con un ottimo passo Ma ci manca sempre qualcosa Per fare bene Poi abbiamo visto la McLaren Che ragazzi Meritatamente è là Spiace ovviamente per piastri Ma Norris come al solito Quando la vettura c'è Lui non delude mai E' stato comunque bello vedere Che tutti quanti giravano Con tempi abbastanza simili Anche l'ultimo non era Tanto distante Ecco da Verstappen Come in altri circuiti E proprio per questo E' stato anche bello Una forma un po' inaspettata Ma che ci sta regalando Tante soddisfazioni E posso dire che qua In Brasile Ci si diverte molto Perché è una pista favolosa E ci fa sempre divertire ogni anno Poi con la sprint race Ancora di più Verstappen vabbè vince Ma che gli volete dire Poi adesso Fa anche delle partenze strepitose Anche in Messico Come qua Ci ha fatto vedere Un tempo di reazione Disumano Quindi è incredibile Impressionante Capisco si la vettura buona Ma è anche lui Che fa la differenza Guarda anche Perez Che comunque non ha fatto male Ha sfiorato il podio Ma diciamo Che appunto In questo Gran Premio È stato molto forte Ha fatto dei bei sorpassi Posso dire L'Alfa Tauri aveva un ottimo passo Peccato per Ricciardo Che aveva Purtroppo perso molto tempo All'inizio Aveva un giro da recuperare Ma il tempo era buonissimo Speriamo che in futuro Possiamo vedere una buona Ferrari Già anche dal prossimo Stagione Anche se Come già detto all'inizio Ce n'è sempre una E poi Non esaltatevi mai Per niente Perché tanto Non è che se Vinciamo la prima Il prossimo anno Del Mondiale E noi possiamo lottare Contro la Red Bull E chiunque Per vincere il Mondiale Perché non è così Anche quest'anno C'è stata la dimostrazione Ogni anno così Che ci sono sempre I polli che ci cascano Ci cascava anch'io Adesso sto imparando A cambiare Ormai Dico sempre le stesse cose Ma è così Vabbè ragazzi È stato bellissimo Questo Gran Premio Ci ha fatto divertire Questo è l'importante Vi saluto Iscrivetevi Solite cose Fate voi E da manca come è tutto Arrivederci Sempre forza Ferrari